Allora, Alice Cantoro, giusto? Sì. Illustratrice? Sì. Perfetto. Fashion designer e illustratrice. Fashion designer. Perfetto. Allora, inizia a spiegarmi fashion designer e illustratrice. Sono due mondi che sono apparentemente molto simili, ma invece non lo sono. Esatto. Che però si possono comunque fondere ed è quello che vorrei diventare la mia vera e propria carriera. Illustratrice o fashion designer? Illustratrice di moda. Ok, per cui adesso in questo tipo di progetto tu hai aderito e hai deciso di dipingere delle vetrine. Assolutamente. Per cui questo tipo di dipinto potrebbe partire anche su un tessuto e di conseguenza da lì parte un progetto? Ma la composizione anche un po' di questa vetrina ricorda un po' quella dei pattern che si utilizzano anche, appunto, soprattutto nei tessuti. Diciamo che il fatto di virare le mie capacità sull'illustrazione e non solo soffermarmi solo ed esclusivamente sulla moda e anche perché attraverso l'illustrazione si può raccontare e si può anche appunto denunciare attraverso degli slogan, eccetera. E quindi la vedo un'attività molto più integrata nel sociale piuttosto che relativa solo ed esclusivamente a l'attività poi del fashion designer che nulla da togliere però comunque nel mio percorso ho capito che preferisco apportare un, diciamo, un contributo della società, diciamo, e piuttosto che rimanere dietro le quinte e magari far parte di una catena di montaggio di moda che mi interessa meno. Anche perché l'artista può essere scomodo e raccontare. Esatto. Quando entri nel mondo del fashion designer purtroppo devi comunque sottostare certe regole. Esatto. Per cui le colori anche o comunque rimangono semplicemente delle idee No, no, no. Io coloro, vabbè, in questo caso no perché appunto la tematica del progetto è white dot, quindi è tutto bianco, anche le vetrine degli altri ragazzi sono... altrimenti sì, i miei lavori di base li coloro e anche se la linea è il tratto fondamentale perché è un po' il segno di riconoscimento, è un po' la struttura in cui poi esprimo, riesco ad esprimere dei concetti. Ultima domanda. Allora, l'arte per essere venduta deve essere anche comunque trasportata su un supporto che possa essere venduto. Sì. Ok, per cui tu trasformi quello che tu hai visto, quello che tu crei anche su un tela oppure semplicemente su superfici per raccontare qualcosa? Io diciamo che il mio lavoro è sia manuale che digitale, quindi diciamo disegno sul supporto cartaceo e poi digitalizzo su computer e coloro a computer. Sto anche stampando i miei lavori e quindi proprio incorniciandoli, creando delle vere e proprie... chiamiamole... perette, diciamo così, no? E quindi per il momento è tutto molto in fase di costruzione, diciamo così. Per cui nell'arte opera prima significa, ok, disegno, digitalizzo, stampo, ma ogni colorazione ha una vita differente, per cui ogni opera sarà differente dall'altra, giusto? Sì, esatto. Per cui comunque riesci a ricreare... Sì, poi comunque intervengo personalmente. Per cui l'unicità dell'opera rimane. Esatto, assolutamente. Perfetto. Grazie mille Alice, è stato un piacere. Ok, a voi, altrettanto. Grazie. Grazie.